Abbiamo avuto sostanzialmente dati 11 reazioni avverse, che però sono veramente blande, tanto per dire su 1.230.000 dosi è lo 0,0008%. Questi primi dati della farmacovigilanza su una correlazione tra vaccini anticovid e reazioni avverse. Abbiamo avuto un sospetto di miocardite, un'aritmia, abbiamo avuto delle reazioni anafilatiche, cioè tutte cose che i medici pensavano fossero correlate alla vaccinazione. 133 le segnalazioni di reazioni avverse lievi giunte all'URSS2 dai medici di base. Si tratta soprattutto di capogiri, febbricola, dolore osseo, eritemia e dolenza nell'area dell'iniezione. Altre 500, quelle invece pervenute direttamente dai cittadini al Dipartimento di Prevenzione, soprattutto relative a dolore all'arto interessato dall'inoculazione e parestesia. Nessun decesso finora è stato correlato alla vaccinazione anticovid in provincia di Treviso. Anche l'autopsia eseguita sul corpo di Nadia Positello, la 49enne di Maser, deceduta 11 giorni dopo la vaccinazione, ha escluso un possibile legame tra l'immunizzazione e la morte. L'osservatorio della farmacovigilanza ha permesso poi di chiarire un altro aspetto importante. Era l'associazione con patologie neurologiche oppure con patologie cardiache. Assolutamente i colleghi che hanno parlato di questo hanno sostanzialmente negato il nesso di casualità tra vaccinazione e queste patologie. Invece confermando in modo serio e preciso che i pazienti che sono entrati all'interno dell'ospedale col covid purtroppo hanno moltiplicato per 10 le patologie che non avevano. Intanto sul fronte vaccinazioni sono stati aperti oggi altri 44 mila posti fino al 30 novembre. Tutti gli over 60 che hanno fatto la seconda dose, devono fare la dose booster, dopo i sei mesi dalla seconda dose possono andare nel portale con la tessera sanitaria, iscriversi e fare la vaccinazione. Come annunciato già ieri ai nostri microfoni dal direttore generale, da oggi ai cittadini che si sottoporranno al tampone per il Green Pass verrà consegnato un modulo con le indicazioni nel caso non ricevano la certificazione verde per collegarsi al sito del ministero e scaricarla o con un numero da chiamare lo 0422 322 922 al quale risponderà un operatore che si occuperà di far avere alla persona interessata il pass.